Eccoci qua ragazzi, allora sono in un bellissimo centro benessere Eva Group Allora Marta mi ha invitato in questo centro oggi perché voleva farmi provare una beauty experience Che cos'è? È un giorno dedicato a te stesso Perciò ti prendi questo giorno e una volta al mese infatti danno questa card Che tra l'altro, datemi la card ragazzi che la voglio vedere perché è di una bellezza Allora io vi invito a venire in tutti i centri e a prendere una di queste e a pensare un po' a voi stessi Un abbraccio, ciao